Ho unto con poco olio la mia vulcanica, ho frullato 6 tuorli e montato a neve le chiare. Ho mescolato tutto, tuorli e chiare d'uovo, ho aggiunto 3 bei cucchiai di panna. Adesso metterò a freddo nella mia vulcanica sul fornello medio fiamma alta. Dopo 5 minuti a fiamma alta, ho aggiunto nella metà del mio soufflé del formaggio grattugiato. Adesso vado a girare la mia bella frittata soufflé e lascerò in autocottura per 2 minuti. Ed ecco il mio bellissimo calzone di frittata. Vado ad aprire, voglio vedere la cremosità del mio calzone e guardate, guardate che meraviglia. Lo andiamo ad aprire e lì c'è il formaggio filante, squisito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.